Vai, rifacciamo, vai! 3, 3, 2, 1... Dai, mi fai ridere, dai, t'abbò... Se accade un qualche cosa di... Spera che mi ha distratto Nei? Masterclass di oltre due ore, no! È arrivato Brio! Aspetta, Brio, vieni, Brio, Brio, vieni! Secondo il Forbes è solo 24 anni e... Che cos'è che succede? Succede che... Ok, rifacciamo sto video. Non sapevo che c'era questa slide qua. Vedi, pensavo c'era questa qua. No, aspetta! Oh, c***o! Tagliato! No! Siamo al diciottesimo video. Inizio un po'... È da acquistare, è da acquisire il tuo primo cliente. Facciamo? Ti invito a iscriverti al canale, che sembra però che così faccio... ...quindi quello di AdWords o Google. Vieni, aspetta, ferma. Lavo dopo i piatti perché sennò faccio troppo casino. Ah, no, quasi, qui abbiamo già quasi finito, eh. Se ti è piaciuto questo video... Pelicosa... Ma come si fa? Ma come si fa? Aspetta, rifacciamola questa, elimina questo pezzo qui.